La giostra del Saracino raccontata in 12 scatti di appassionati che ogni anno seguono il corteo a caccia di emozioni. Un anno con la giostra è il titolo del calendario 2024 del Saracino realizzato grazie alle foto condivise dagli utenti di Instagram con l'omonimo hashtag. Di scatti fatti da appassionati, da semplici turisti piuttosto che da amici che hanno voluto dare uno spaccato diverso e hanno voluto partecipare a un anno con la giostra che era un contest che avevamo pubblicato su Instagram e quindi sono tutte foto pubblicate in quel social appunto. Sono state raccolte, selezionate e è stato prodotto appunto questo calendario che secondo me è molto bello proprio per quello che tu dicevi, cioè il fatto che sono punti di vista leggermente diversi rispetto a quelli che siamo abituati a vedere dai fotografi professionisti. I proventi saranno destinati interamente a Casa Tevenin per aiutare donne e bambini in difficoltà. Trecento le copie che domenica per l'intera giornata potranno essere acquistate nell'istituto di via Sasso Verde. Casa Tevenin è una fondazione secolare che ha sempre comunque bisogno di avere nuovi input e nuovi aiuti, quindi questo calendario che ci dà la giostra del Saracino che è veramente molto bello, spero che farà una buona riuscita e quindi sarà un evento di solidarietà importante. Il calendario è stato realizzato dall'Ufficio Politiche Culturali e Turistiche impiegando parte delle risorse arrivate dal Ministero della Cultura. Sabato 2 dicembre dalle 9.15 alle 13 infine ci sarà un annullo filatelico nella sede di Signarezzi in via Bicchieraia realizzato da Simone Cheli che celebra la lancia d'oro dedicata al centenario dell'Arezzo Calcio. Le poste si legheranno, manderanno un loro ufficiale all'interno della sede di Signa e ci sarà appunto l'annullo filatelico con delle cartoline che sono state confezionate appunto a tal proposito.